Ciao a tutti, come giovani di AC di tutto il mondo siamo pronti per partecipare alla prossima GMG che si terrà dall'1 al 6 agosto a Lisbona. Sarà un momento bello di condivisione, di festa. Per noi ci sarà uno spazio dedicato all'interno della Fiera delle Vocazioni nella Città della Gioia da martedì a venerdì ed è uno spazio per tutti i giovani di AC, uno spazio che sarà il nostro punto di riferimento a Lisbona in cui promuoveremo l'associazione, ci incontreremo e faremo tante attività pensate per noi e quindi ci vogliamo incontrare lì tutti insieme. Lo sfondo biblico nel quale vogliamo vivere questa esperienza è quello della visitazione di Maria alla sua parente Elisabetta che apre già a tantissime riflessioni. Mi viene da condividere con voi ciò che potrebbe accomunarci a questo incontro di queste due donne. Indubbiamente è un incontro improvviso ma non improvvisato perché dice l'urgenza di qualcosa che sia nel cuore che si sta custodendo e che si vuole portare a qualcun altro. Così anche nella nostra esperienza associativa ma soprattutto nel cuore, nei ragionamenti, negli affetti che pulsano nei ragazzi, nei giovani, c'è questo desiderio di reagire in forma improvvisa ma mai improvvisata nella propria vita. Come potrebbe essere anche la preparazione e l'esperienza di questa avventura insieme a miglioni e migliaia di altri giovani. Non vediamo davvero l'ora di trovarci insieme a Lisbona, a pregare insieme a Papa Francesco, a pregare insieme come giovani che portano la loro esperienza di vita, il loro desiderio di incontrare il Signore. Le nostre vite che a volte sono frenetiche, che sono sempre una rincorsa con il tempo, possono trovare un'occasione per fermarsi e festeggiare tutti quanti insieme. Perché è così, il Signore ci vuole incontrare, ci vuole incontrare con le nostre vite così come siamo e vuole dirci a tutti che siamo profondamente amati. E allora ci vediamo davvero tutti quanti insieme per festeggiare, per festeggiare insieme un Signore che ci vuole incontrare e che ci viene incontro e per mostrare un volto di chiesa bello, giovane, che cammina insieme in questo tempo di sinodo, in questo tempo sinodale, insieme anche a Papa Francesco. Ci vediamo a Lisbona, cari giovani biaccini di tutto il mondo. Un abbraccio grande. Ciao! Ciao!